Ben tornati a tutti. Oggi è domenica, 7 gennaio 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Leone. Il pensiero torna al lavoro. Ultimo giorno di vacanza prima di rientrare in città evitando lunghe code. Non sarà da meno anche a casa se non vi siete mossi, per tradizione oggi si smobilitano albero e presepe e se siete tra i fan dell'abette vero, il giorno della resa è arrivato, aghi secchi ovunque per la casa, rametti piegati dal peso delle decorazioni reclamano tristemente la fine. Ed è sempre con sottile dispiacere che si ripete di anno in anno, che raccogliete i globi di vetro riponendoli con cura nell'apposita scatola, passando poi alle lucine e ai nastri d'argento, che torneranno a brillare il prossimo Natale, magari gli stessi da decenni, tradizione di famiglia che non si estingue. Che sgobbata per pulire e restituire alla casa l'aspetto consueto. Piccole ma buone notizie in tutti i campi, anche in quello sentimentale. Annuncia l'incontro con un uomo giovane, chiaro di capelli, anticonformista, serio, maturo e con la testa sulle spalle. Piccole gioie, un ragazzo innamorato, l'incontro con una persona che ci terrà lontano dalle delusioni e dalle fatiche della vita. Il corteggiamento di qualcuno che conoscete si farà evidente e non vi farà molto piacere, sarà meglio tenerlo a bada e lontano dalle vostre cose. Ottimi i rapporti con i bambini in genere e gli adolescenti. Qualcuno ti chiederà un aiuto. Difficoltà nei rapporti con i parenti stretti. Una unione potrà terminare. Oggi nati tra le 15 e le 18 potrebbero ricevere una scortesia da un amico, perdonate presto e cercate di capire che nessuno è perfetto. Luna e giove in aspetto favorevole, potreste avere le occasioni giuste, finalmente, per emergere e mettervi in mostra. Opportunità di lavoro o di carriera. Cercate la tranquillità, vi è indispensabile per affrontare al meglio alcune questioni che sembrano non risolversi mai. Buone prospettive per alcuni single che troveranno modo di interessare le persone conosciute in questo periodo. I nati di domenica perderanno un oggetto importante, fate attenzione, siete molto distratti. Bene le scelte che farete oggi, prendete la decisione più opportuna per voi e non voltatevi indietro. Ogni occasione è buona per poltrire mai poco tempo per rimettere in piedi le tue speranze. Datti da fare. È possibile siate distratti da molte suggestioni oggi, specie se festeggiate il vostro compleanno in agosto. Il duo luna, urano dissonante vi provoca una frequente svagatezza. Il relax della giornata di festa vi ritempra nel corpo e nella mente, incoraggiandovi a dedicarvi a piaceri come la lettura e il cinema. Non dedicatevi a troppi interessi solo se siete della terza decade, rischiate un sovraccarico. Luna calante malmostosa inquadratura, che al posto della stella cometa con una punta della falce vi indica la via di casa. Se foste nell'est Europa oggi sarebbe ancora la vigilia, il Natale domani, perché la madre Russia che non adottò la riforma del calendario gregoriano regola ancora il suo tempo su quello messo a punto da Giulio Cesare, appunto con uno sfasamento di vari giorni rispetto al nostro. Sotto sotto, ma probabilmente solo per questo non vi dispiacerebbe, vivere a Mosca o a San Pietroburgo con le vacanze davanti a voi invece che ormai alle spalle. Invece il sole in sé sta a casa, se non siete già a lavoro, vi ricorda che dopo domani ci sarete. Finita la cuccagna oggi si disfano albero e presepe negli scatoloni e si torna al solito Trantran edizione 2024. Amore ed Eros. Se a casa rientrate oggi per non trovare traffico domani e organizzarvi per il Trantran consueto che vi aspetta, stasera si cena a casa di genitori o suoceri e qui cominciano le beghe. Se il quattro zampe l'avete affidato a loro sulle prime non vi degnerà neppure di un'occhiata e la riconquista sarà lunga e impegnativa, ma alla fine ci riuscirete anche stavolta, voi lo amate lui ama voi. Anche se quest'anno gli avete fatto un grandissimo torto. Lavoro e denaro. Casa, dolce casa. Sarà anche dolce ma se già ci siete le operazioni di smontaggio degli addobbi e il ripristino delle sue normali sembianze vi prendono più tempo del previsto. Ci sono poi i bagagli da disfare, le lavatrici da fare, il frigo da riempire di nuovo in vista della settimana lavorativa che si spalanca davanti a voi come il tartaro degli antichi greci. Su via, spiace un po' tornare alla normalità, ma in fondo una volta riabituati ci state bene, è il vostro nido, la fonte di sicurezza emotiva a cui tornare ogni sera come un cucciolo torna dalla sua mamma. Una bella ripulita, qualche ninnolo nuovo da esporre il vostro castello avrà già tutto un altro aspetto. Voglia di compri da rinviare di qualche giorno, prima bisognerà incassare, ma tranquilli i saldi non finiscono oggi, sono appena iniziati. Benessere. Le vacanze vi hanno fatto bene, avete un colorito più sano, un'aria più serena, un corpo più tonico e, a quanto racconta la bilancia, nonostante le abbuffate natalizie non avete neppure messo su peso. Bravi, allora continuate così, ci mancherebbe altro di rovinare tutto questa meraviglia abbuffandovi di pandori e panettoni già ormai in svendita. Finita la festa dice il proverbio gabbato Lusantuè sull'argomento ormai si chiude la porta. Per lei, un pensiero al lavoro vi rende malinconiche, in proprio o in azienda ultimi giorni di relax e poi si riparte. Vietato lamentarsi, immaginatevi al posto di chi il lavoro non ce l'ha e non sa più come combinare il pranzo con la cena. Per lui, tutti in casa vostra hanno ricevuto un regalino, un piccolo premio di consolazione, ma vi siete dimenticati di Snopi o Lulu. Di corsa a prendere la calza anche per loro, altrimenti saranno gelosi. Colore delle emozioni, ocra. Barometro dell'umore, più vinginoso. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5, attività, 9, finanze, 6, benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo. Grazie.